Si chiama Energia in Comune ed è la lista civica presentata dal candidato sindaco di Colli al Metauro Candio Curina che il 3 e 4 ottobre sfiderà le amministrative e l'assessore uscente Pietro Briganti. Settantenne, laureato in scienze geologiche, già presidente della comunità montana del Metauro e poi dirigente scolastico, Curina scende in campo con una squadra variegata formata per lo più da giovani, la più piccola, Laura Valentini, ha 22 anni e 9 candidati su 10 ne hanno meno di 40. Domenica scorsa sono stati illustrati i punti principali del programma, tra questi rientrano un piano regolatore unico per le tre ex municipalità, Mondemaggiore, Saltare e Serrungarina, uniformare i servizi degli ex comuni, riqualificare le aree degradate, puntare sulle ciclovie e sulle scuole per garantire una maggiore sicurezza ma anche spazi e servizi adeguati. Infatti Curina denuncia i troppi ritardi sulle strutture scolastiche dove i lavori sono stati completati all'ultimo minuto o addirittura sono ancora da finire nonostante l'imminente rientro degli alunni in classe. L'attenzione poi sarà rivolta alla viabilità, alle politiche giovanili, al sociale e allo sport, anche attraverso la realizzazione di una piscina comunale. Il nostro motto è energia in comune che ha il doppio significato, energia in comune come gruppo e energia da portare in comune per riattivare e dare dinamicità alla macchina operativa del comune. Per questo i giovani ci mettono del loro veramente e noi più esperti cerchiamo di guidarli e prepararli anche per il futuro perché è importante anche questo, avere carica e energia ma avere anche persone esperte che poi coinvolgano bene questa energia verso un lavoro costruttivo e non dispersivo.